Ciao a tutti e benvenuti all'episodio numero 206 di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Molini, sono uno dei conduttori di Cycling Chronicles. Dico uno dei perché con me a farmi compagnia ci sono Luca Saugo. Ciao Luca, come va? Tutto bene? Ciao Giacomo, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Tutto molto bene. E il porcellino della Trobroleon. Lo avevamo chiamato un paio di settimane fa. Giuseppe Campolo me l'ho nota come primo. Ciao primo. Sono tornato. Potrei parlarci della tua corsa preferita. Vi parlerò più tardi della Trobroleon. Vi parlo più tardi della Trobroleon. Prima parliamo di altri porcellini. Parliamo di altri porcellini. porcellini inglesi. Porcellini inglesi. E francesi. Happy porc. Porcellini inglesi e francesi in ciecoslovacchia. Solo in Repubblica Ceca. Non c'è più la ciecoslovacchia. Giacomo dai, non è il 1991. Sveglia, bumerone. Porco Giuda. Me la sono cercata. E l'hai trovata. C'è stata la Coppa del Mondo di One Time Bike di Nove Miesto. Rivestiva anche un ruolo particolare per quanto concerne le qualificazioni olimpiche. Il destino di Albione passava dalla prova di Vlad da Scalu, a quanto pare. Ma poi si è risolto tutto per il meglio. Soprattutto però Luca si è risolto per il meglio a livello maschile la prova in favore di Tom Pilcoc che ha offerto una prestazione maiuscola veramente al cospetto di tutto il meglio della mountain bike. Ha letteralmente dominato. Ha furtassato la concorrenza ma a me cioè il modo in cui va in mountain bike Pilcoc. Lascia veramente il bocca aperta. Pilcoc è molto bravo nel ciclo cross. È molto bravo nel ciclo su strada. Però nella mountain bike. Cioè è il suo terreno di elezione. È la mountain bike. Lui è fatto per andare in mountain bike. Cioè lui ha iniziato a correre in mountain bike l'anno scorso tra gli anni del 23 faceva gara. Vinceva tutte le gare e faceva i giri veloci più veloci quelli dei professionisti, degli elite. Quest'anno ha iniziato a correre tra gli elite e ha fatto la stessa roba. Cioè hanno dovuto per non fargli vincere una gara hanno dovuto farlo partire praticamente dalla 93 in posizione e credo che questo dica un po' tutto. È un alieno. Un extraterrestre. È potenzialmente il più forte di tutti i tempi. Comunque in una disciplina molto giovane. Però un altro Tom Pidcock nella mountain bike non c'è mai stata. Io penso non c'è mai stato. Penso di poterlo dire già adesso. È fatto per quella bicicletta lì. Non ce n'è. Cioè i valori tra lui e Van Der Poel per dire con tutto che a Mattie magari gli manca ancora qualcosa. In Vivenze gli manca ancora qualcosa. Però sono rovesciati rispetto al ciclocross. Nel ciclocross Van Der Poel è il gott. È il migliore di tutti i tempi. e Pidcock è uno che gli può dare fastidio. Nella mountain bike credo proprio che sarà il contrario. Cioè Pidcock è il più forte di tutti e Van Der Poel è uno che gli può dare fastidio. Magari alle Olimpiadi che avranno un tracciato particolare. Van Der Poel potrà anche soffiargli l'oro. Però penso che se Pidcock si impegnerà nella mountain bike sarà destinato a dominare i prossimi 15 anni. Io spero che si impegni nella mountain bike perché è veramente uno spettacolo incredibile in quella disciplina lì. Per quanto concerne la gara è stata una solo a partire dal terzo giro. Giro breve iniziale poi dopo sei volte il tracciato lungo di Nove Miesto. Pidcock a partire dal terzo giro ha staccato Van Der Poel in cima alla seconda delle tre salite che caratterizzano il percorso. Soprattutto quello che si è visto è stata una superiorità per quanto concerne l'inglese. È veramente impressionante perché nel momento stesso in cui lo ha staccato l'olandese che comunque ha fatto un garone, nel senso che si è lasciato abbondantemente dietro tutti gli altri. perché Flückinger a tratti gli è arrivato vicino ma poi non è mai veramente riuscito a metterlo in difficoltà. Dicevo, anche nei tratti successivi su un percorso che era bagnatissimo, un percorso che era condizionato dal fango molto scivoloso, cioè lui continuava a pedalare. Non è una cosa da poco perché gli altri in parecchi tratti dovevano scendere a affrontare un terreno più sassuoso e salita magari un pochino più difficile tecnicamente a piedi. E lui continuava, pedalava, pedalava, pedalava. Era quello che praticamente non scendeva mai di bicicletta che è sintomo, vabbè, tanto di una stabilità tecnica notevole ma soprattutto della capacità di portare in salita in particolare una velocità nettamente superiore rispetto a quella della concorrenza. Alla fine ha vinto con un minuto di vantaggio su Wunderpool ma l'impressione onestamente era che potesse tranquillamente essere di più. Avevo pensato a un crollo di Wunderpool nel momento in cui Pitcock ha attaccato poi ho preso dei tempi che onestamente i conti non mi tornavano perché dei tempi che prima di iniziare a registrare avevo detto un po' strani. Prima dell'attacco si è visto uno split Wunderpool e Pitcock erano assieme avevano 10 secondi su Flukiger, 35 su Sink, 45 su Saru e poi a 53 secondi c'erano Schurter e Aterly. Al momento dell'attacco, proprio al momento in cui si vede per una frazione di secondo Pitcock attaccare, passa un altro split avevano 18 secondi su Flukiger, quindi stavano guadagnando 8 secondi 47 su Sink, più di un minuto su Saru e Schurter che nel frattempo avevano ripreso il campione del mondo, Schurter e Aterly. Dopo l'attacco passa un altro split Wunderpool aveva già preso 30 secondi non era passato niente allora io mi sono immaginato un Wunderpool in crollo perdeva 5 secondi da Flukiger che era a 41 secondi, quindi 11 dietro di lui 8 secondi da Sink che torto Pitcock era il più veloce in pista in quel settore poi c'erano Schurter e altri a 1 minuto e 30 quindi viaggiavano qualche secondino meglio di Wunderpool. Al quarto giro, al momento del passaggio al quarto giro, Wunderpool aveva ancora 31 secondi da Pitcock quindi aveva contenuto quel distacco era Flukiger a 55 secondi da Pitcock quindi Wunderpool gli ha guadagnato nell'ultimo settore 13 secondi ne guadagnava 10 a Sink, ne guadagnava 10 a Schurter e agli altri quindi nell'ultimo settore un Wunderpool che in precedenza aveva preso 30 secondi da Pitcock senza perdere quasi nulla dagli altri, un po' spiccioli di secondi guadagnava su tutti gli altri la crisi di Wunderpool e le difficoltà di Wunderpool sono iniziate successivamente allo split all'inizio del quarto giro quando ha fatto un tempo nel quarto giro complessivamente comparabile a quello di Milan-Bader di Colledani, di Bouchard cioè ha girato veramente piano è stato il quarto giro, quello delle difficoltà per Wunderpool non il terzo il terzo in cui Pitcock ha aperto la forbice in un modo che ancora forse per la mancanza di immagini dell'attacco io non riesco a spiegarmi c'è un ulteriore dato che è interessante perché dopo il quarto giro delle difficoltà di Wunderpool il quinto e il sesto giro sono stati entrambi i migliori da parte di Wunderpool ha realizzato il best lap nel quinto e nel sesto giro quindi con un andamento un filo diverso rispetto a quanto aveva fatto ad Albstadt dove le difficoltà erano iniziate un po' prima e già il quarto giro se non sbaglio era stato quello della risalita questo soltanto per dare un quadro di quanto accaduto in quel momento cruciale della competizione sul resto più che altro avrei una domanda da farvi quali sono le caratteristiche tecniche che rendono fisiche, atletiche o altro che rendono Pitcock così dominante rispetto a una concorrenza diciamo che non si chiami Wunderpool al di là di quelli che sono i rapporti di forza tra i due ne parlavamo un pochino nel pre-episodio la mia impressione è che quello che loro hanno portato che prima aveva portato Nino Schurter entro certi limiti e che loro stanno portando alle estreme conseguenze nel senso positivo del termine sono delle accelerazioni fulminanti cioè loro arrivando dal cross hanno questa capacità di rilanciare che è straordinaria poi dopo uno è chiaramente più stazzato fisicamente più preponderante Wunderpool, l'altro un pelo più leggero a questo punto magari su salite un po' più lunghe è anche favorito rispetto all'olandese però penso che sia soprattutto quello cioè il fatto che il modo in cui si mette la corsa oggigiorno fa letteralmente scomparire o quasi dagli ordini d'arrivo dei biker forti ma che come ad esempio Tempie o Kershpaumer che due anni fa si giocavano medaglie al campionato del mondo e che adesso non riescono ad essere competitivi perché non riescono proprio ad entrare in gara perché da subito viene imposto un ritmo altissimo e caratterizzato da continue accelerazioni e questa è la grande qualità di Pitcock e di Wunderpool anche chiaramente Sì, diciamo che io puoi aggiungere anche un altro discorso che facevamo un paio d'anni fa proprio meno di due anni fa proprio ai tempi del mondiale di Monsantane con Giacomo che io facevo lui non era neanche d'accordissimo però diciamo che Wunderpool e Pitcock sono proprio due alieni nell'universo mountain bike già a livello di motore la mountain bike purtroppo è una disciplina che viene un po' troppo anche saccheggiata dalla strada voglio dire se ne trovano uno buono tra gli juniores la strada lo prende lo porta via non è come il ciclocross ciclocross nelle fiandre dove se uno è forte il ciclocross se lo tiene dove Wunderpool e Vanert continuano a fare ciclocross dove gente come Svec come Tonair che potrebbe fare strada con grandissimi risultati però fa cross perché viene anche pagata tanto per far cross cioè quando trovano un Sagan un Bernal la strada un Fuglsang la strada se lo porta via cioè se se Bernal se Sagan fossero rimasti nella mountain bike per dire due nomi di chi era effettivamente molto forte nella mountain bike a livello giovanile io credo che vedremo anche delle gare diverse qui sai Schurter è un campionissimo però ha ma inizia a avere i suoi anni inizia a perdere qualcosa gli altri insomma sono buonissimi atleti però voglio dire anche la differenza tra il Braidot biker e il Braidot ciclocrossista è la palissiana e non credo sia dovuta non solo al terreno al fatto che magari Braidot è più portato per la mountain bike piuttosto che per il ciclocross ma anche perché nel ciclocross comunque trovi una concorrenza di gente veramente forte cioè vediamo anche Gianni Vermersch che sta facendo un ottimo giro d'Italia Tim Merlier cioè questa è gente che non sta nella top 10 del UCI del ranking del ciclocross però su strada è gente che vince gare importanti nella mountain bike c'è un livello un po' più basso per cui gioco forza due motori del rango di Van Der Poel e di Pidcock se stanno bene fanno un po' quello che vogliono poi Pidcock appunto è ancora più portato perché perché sì probabilmente cioè questa è la prima risposta che possiamo darci perché sì perché ha preso in mano questa bici della mountain bike cioè non ha neanche avuto bisogno di migliorare quel po' tecnicamente di prendere confidenza un po' con i percorsi della mountain bike come ha dovuto fare Van Der Poel cioè lui si è trovato e basta è qualcosa che gli viene così naturale gli viene benissimo e come ha fatto Remco ad avere quella posizione lì in sella per cui chiunque sta a ruota di Remco è come se non stia a ruota di Remco perché è talmente aerodinamico talmente schiacciato che quelli dietro si prendono l'aria tutta loro cioè ogni naturale quella posizione lì ho allenato quella posizione lì ma gli sono bastati sei mesi per allenare una posizione così aerodinamicamente perfetta c'è qualcosa che va oltre le mere caratteristiche fisiche e necessita di scomodare la parola talento per me la prima regola per capire e per analizzare il ciclismo è che ci sono alcuni corridori su cui non si può applicare la logica Pidcock nel suo rapporto con la mountain bike va oltre ogni logica va forte perché sì lasciando il piano dei valori assoluti e venendo invece alle condizioni attuali di entrambi dei capofila diciamo l'impressione è che Pidcock sia supportato da una grandissima condizione grandissima condizione che invece in qualche misura manca a Van Der Poel curiosamente Pidcock ha dato a Tituankarot gli stessi tre minuti e mezzo che ha dato all'Oikerbad mezzo ci sono otto biker però è arrivato nono quindi c'è quella concorrenza che dicevamo che mancava all'Oiker Bad Pidcock che sembra a quel livello superbo ad Albstat secondo me è vero il discorso che facevano Albino e Luca cioè questo susseguirsi di up and down questa intermittenza però secondo me ha pagato un po' la gestione dei recuperi di una partenza che lo vedeva molto indietro col senno di poi è sicuramente ha pesato quel problema meccanico che lo ha frenato nel quinto giro perché se no avremmo potuto assistere anche a una gara diversa intermittenza invece che sembra essere adesso propria di Van Der Poel che alterna dei giri brillantissimi ad altri in cui si spegne quali sono i valori al momento dei due cosa manca l'uno e che cosa in più l'altro bella domanda che cosa manca a Van Der Poel probabilmente un po' di pratica in questo momento penso che nella miglior condizione possibile sia assolutamente competitivo per per la Vittoria per me era il favorito numero uno già a nove miesto poi sono rimasto molto sorpreso dalla prova di Pilcoc nonostante tutti i discorsi che ha fatto che ha fatto Luca sul talento su quanto ha portato questo ragazzo per la mountain bike sembrano abbastanza evidenti per quanto concerne invece quello che ha in più in questo momento Pilcoc mi sembra chiaramente da andare a ricercare nella prestazione in salita nel senso che finora è sempre stato lì che ha fatto la differenza sia all'Oikerbad dove sulla prima salita del percorso ha schiantato letteralmente la concorrenza sia ad Albstadt dove si è reso protagonista come diceva Albi di accelerazioni in certi momenti pazzesche sia a questo punto anche a nove miesto che è un percorso che in teoria ha presenza salite meno lunghe però dove ha una marcia in più rispetto agli altri cioè gli altri ad un certo punto dovevano scendere lui continuava a salire in bicicletta cioè c'è solo il tempo che guadagni magari non ne guadagni tantissimo per il fatto di essere in grado di passare in bici oddio guadagni un pochino anche quello ma solo il rilancio della bicicletta l'energia che ti costa il fatto di dover lanciare la bicicletta da fermo il risalire lo scendere sono 5-6-7 secondi e sommali 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 alla fine Pilcoc ha una marcia in più secondo me ecco una differenza che c'è tra i due è che effettivamente Pilcoc è arrivato alla mountain bike comunque uscendo dalla stagione su strada che stava facendo vedere le cose migliori del periodo passato su strada che era un po' al top della condizione quindi ha traslato poi questo periodo di super forma nella mountain bike mentre Vanderpool è arrivato anche da da un periodo di scarico quindi magari ad agosto i valori saranno un filo diversi è il dubbio che comunque oltre a tutto quel che abbiamo già detto Pilcoc è arrivato proprio al top della condizione in questo momento della stagione Vanderpool invece sai ha fatto il fiandre dopo il fiandre ha staccato ha preso in mano la mountain bike ad Albstad era ancora abbastanza indietro sapevamo che sarebbe cresciuto l'aveva è stato un po' meglio gli manca forse ancora qualcosa e secondo me Pilcoc va un po' meglio di Vanderpool in questo momento anche in discusa mi viene in mente un nostro amico commenterebbe dicendo il rossista Vanderpelo avrebbe bisogno di una breve stage resist per mettere chilometri nelle gambe ma si forse può essere che il ritmo di corsa anche se in realtà lo sforzo è particolarmente diverso però la strada fa abbastanza bene comunque come base però la differenza resta la differenza che fanno loro in generale poi di quelli che sono i rapporti di forza in un preciso momento della stagione piuttosto che in un altro capacità di alzare di giri il motore proprio che gli altri non hanno c'è una concorrenza già facci qualche nome beh basta guardare la classifica il migliore in questo inizio di stagione solti appunto Pitcock e Vanderpool è stato Lucas Flukinger vabbè Adalstrat ha pagato Mattias buonanotte prendevo l'altro Mattias Flukinger Adalstrat ha pagato ha pagato il problema con il regisella che non si sollevava più nell'ultimo giro ha dovuto farlo tutto sui pedali verso qualche secondo altrimenti si sarebbe potuto anche giocare la vittoria qui sul passo in certi momenti sembrava effettivamente anche migliore di Vanderpool però poi dopo non è veramente mai riuscito a metterlo in difficoltà è chiaro che finora si è portato a casa dei bei podi e se insomma se non dovessero partecipare a tutte le gare più di coca e Vanderpool anche il discorso Coppa del Mondo per lui diventa molto interessante Nino Schurter è lì è lì però gli manca qualcosa è sempre un grandissimo però si vede che non ha non ha più quello che aveva fino ancora due anni fa quando perdeva da Vanderpool perché vabbè Vanderpool è un fenomeno assoluto e ci sta a perdere da Vanderpool però già dall'anno scorso si vedeva un passo indietro e poi c'è una situazione di grossa incertezza cioè Koretsky che ha vinto ad Alpstadt questa settimana ha fatto malissimo Saru non aveva impressionato sì sì Saru non aveva impressionato ad Alpstadt era andato in Calando invece qui ha fatto una bella prova a Atherley mi pare si è comportato bene in entrambe le gare comunque i rapporti di forza possono cambiare anche per la concorrenza possono cambiare parecchio da qui da quei mondiali alle olimpiadi poi c'è anche parlando di rapporti di forza Luca c'è anche la necessità che cambino a livello femminile perché se no nel senso Lohan Recomte sta facendo di fatto il parallelo di quello che abbiamo visto fare a Pitcock in questa gara lei sia ad Alpstadt che a 9m ha letteralmente dominato no anche anche più di Pitcock sì sì anche più di Pitcock in realtà perché parte dopo 5 minuti e fa il vuoto e stravince dopo aver visto nello short track Hayley Betten che non so l'aveva tenuto testa ma l'aveva anche battuta uno short track che era stato uno short track non classico ma particolare molto selettivo erano arrivate uno a una io pensavo che potessimo avere un po' di battaglia invece Lohana andate via subito ha fatto il vuoto diciamo che appunto nel femminile in questo momento bisogna un attimino guardare la lotta sulle posizioni di rincalzo poi c'è a dire che l'effetto non prevò è caduta nello short track poi è partecipato alla gara della domenica però magari non era ancora al top e sì Yolanda Neff non si è ancora ripresa del tutto dall'infortunio pian piano sta ingranando ha fatto meglio a 9 e mezzo che ad Albstadt ha fatto anche una gara complessivamente migliore perché è andata in crescendo è arrivata ottava però non è ancora la Yolanda dei giorni migliori Kate Courtney ha avuto problemi anche lei anche lei in crescita rispetto a quella vista a ottobre dell'anno scorso che andava veramente piano però questa gara qui ha avuto problemi alla fine è venuta fuori Rebecca McConnell per il terzo posto è andata molto bene Evie Richards però diciamo che in questo momento c'è veramente un grosso gap tra Loan e tutte quante con un batten batten come si pronuncia che è quella che lei è un po' più vicina però lei è molto lontana anche lei speriamo chiaramente per lo spettacolo di vedere qualcosa di diverso nelle prossime gare perché fin qui sono state totalmente a senso unico magari abbiamo visto un po' di lotta per il podio un po' di lotta per le posizioni poi era un gare che comunque importante anche in ottica olimpiadi però per la vittoria una testa e spalle sopra il resto cioè un aliena tra le umane sì a 9.000 ha confermato intanto il dominio di Albstadt poi la prestazione anche lei in salita cioè pazzesca prima vi dicevo cioè questa cosa come pedalando così agile le riuscisse a tenere grip in salita perché non so se avete mai fatto mountain bike ma la ruota dietro se c'è il fango e andate con un rapporto troppo agile slitta proprio ed è veramente difficilissimo controllare controllare la bicicletta se la ruota incomincia a slittare poi sulle radici bagnate è un disastro perché non si va più avanti e lei cioè aveva una velocità di base talmente alta che pedalava agilissima e comunque riusciva a portare avanti la bicicletta questo era un vantaggio enorme e tecnica ma anche nel suo caso come quello di Wilcock cioè è la velocità di base con cui arriva alla salita che consente di fare di fare queste cose è una veramente pazzesca come come prestazione quella che quella che ha offerto l'Olanda Neff curiosamente dall'infortunio tende a partire un pochino più piano e ad andare in crescendo poi in gara anche ad Andorra aveva vinto una gara inizio stagione partendo piano e poi andando in andando in crescendo e così è stato pure a cioè non ha vinto però anche a novemesso ha offerto una prestazione del genere anche all'Oikerbad era partita nel primo giro era partita abbastanza forte poi dopo aveva avuto difficoltà nel primo terzo di gara insomma e alla fine si era ripresa ed era arrivata quinta insomma deve ritrovare la quadra è chiaro che ha avuto un infortunio molto brutto lo scorso anno che è la condizione però insomma se non cambiano i valori in campo si correrà tutto l'anno per il secondo posto qualche aggiornamento sulla strada perché si sono corse tante competizioni in concomitanza col Giro d'Italia qualcuna spostata rispetto alla la sua calendarizzazione originale tra cui la Challenge di Mallorca e però non abbiamo seguito dove hanno vinto nomi interessantissimi è tornato Greipel al successo Winner Anacona ha risposto a Winner Taco ha vinto Jesús Serrada arrabbiatissimo perché Luca aveva parlato male del fratello nel corso della scorsa puntata ha vinto meglio una prova della Challenge in Mallorca che una querela voglio dire ha vinto addirittura Ryan Gibbons però siccome non abbiamo visto siamo stati attentissimi ecco perché c'è il giro c'è la mountain bike ci sono altre cose ma anche i nostri impegni personali abbiamo avuto poco tempo per dedicare da dedicare alla Trobro Leone non farò il maialino parlerò di una corsa che è stata molto divertente meriterebbe secondo me insieme con altre corse che si corrono in Belgio questa si corre in territorio Breton in Francia meriterebbe ben altra platea ce ne sono di più pubblicizzate che fanno cacare questa è una gran bella corsa in Italia se ne è parlata soltanto quando ha vinto vendrame poi per fare un po' di filosofia sui Ribinou ma in realtà non si parla di queste competizioni per così dire minori anche se minori non lo sono che meriterebbero altro parterre corsa molto divertente su questi Ribinou su questi sterrati piena di attacchi ma soprattutto piena di momenti ciclismo che ci piace io ho iniziato a seguire la Trobro Leone quest'anno che c'era una fuga con Brunel della Francia c'era Grosu Cotè Aristi Kowalski e Bacter della Beat Cycling di cui avevamo parlato nella scorsa puntata che era indiavolato attaccava sempre Kowalski mi fa venire in mente il pinguino di Madagascar ok potrebbero dare un pinguino alla Trobro Leone invece di Vedi? a parte che lo trovo di pessimo gusto il fatto che si presentino con questo maialetto vivo cioè onestamente mi sembra una cosa fuori dal mondo comunque vabbè il mio animo animalista dicevo lo volevi morto il maialetto fammi capire no né vivo né morto gli davano un peluche cioè gli presentano questo con il porco addocchio in spalla sembra il presepe onestamente è brutto dicevo dietro provavano a ricucire su questa fuga soprattutto a Gede Serlotto che erano rimaste tagliate fuori ma ce l'ha fatta invece Van Melsen della Intermash che ci sta vedendo sta facendo vedere un po' ovunque al giro in Francia con un'azione solitaria la cosa divertente è stata che questa azione solitaria ha avuto successo quindi Van Melsen è riuscito a riportarsi sulla fuga dopo aver sbagliato strada lo si vede inquadrato che sbaglia una rotonda torna indietro riprende l'inseguimento si riporta su quelli davanti si riporta su quelli davanti e attacca su un tratto in sterrato insieme con Brunel questi sono soltanto una serie di attacchi se ne sono visti tantissimi nel finale se avete Eurosport Player magari là è caricata sull'on demand vedetela perché merita mentre c'erano Van Melsen e Brunel davanti dal gruppo dietro sono usciti i suini di quella lotto su Dall che era rimasta a secco Legac a supportare Brunel un altro Francia De Ge Connor Swift e Algaert della Cofidis che riescono a chiudere sulla testa ma a circa 25 km alla conclusione il gruppo soprattutto sulla spinta della Gie Deser che stavolta era lei che era rimasta fuori è riuscita a rifarsi sotto ha praticamente chiuso sulla fuga ma due uomini sono riusciti a ridare vigore all'attacco erano proprio Connor Swift e Legac su cui però si sono riportati altri componenti del contrattacco precedente quindi Algaert con Tuse della Gie Deser che è riuscito a uscire questi quattro hanno formato appunto un quartetto Sweeney non è riuscito a seguire i nuovi attaccanti la lotto Soudal è rimasta col cerino in mano altro momento ciclismo che ci piace perché hanno iniziato prima con Gilbert poi con Degenkolb insomma tutta una serie di attacchi solitari che non hanno sortito alcun tipo di effetto è riuscito invece da solo Plancaert sempre della Intermarché a riportarsi su quelli davanti è iniziato un balzer di tentativi questi qua non quelli della lotto Soudal ma da parte di questi attaccanti che cercano di andarsene tutti da soli Tusea ha avuto un problema meccanico è stato un finale bellissimo mentre da dietro è uscito di nuovo un altro uomo in solitaria Rasmus Tiller a cui hanno tirato la volata in faccia altro momento ciclismo che ci piace proprio al momento del ricongiungimento proprio al ridosso del traguardo altro momento ciclismo che ci piace perché Connor Swift ha alzato le braccia troppo presto è rimasto veramente in una situazione di grandissima tensione perché era pensava di aver fatto la cazzata dell'anno e invece un fotofinish simile a quello della freccia del brabante gli ha dato ragione e ha vinto appunto su Algaert e Plancaert con Degenkolb che si dichiarava felice per la lotto Soudal per questo bellissimo sesto posto conquistato nella volata dei battuti a parte l'invito a recuperare la trobro Leon io spenderei una parolina sugli 1X Pro Suckling Team questi ragazzi della professional di cui abbiamo parlato che continuano a far segnare prestazioni e risultati importanti sembra che quest'anno abbiano top 10 alla Neckere Kerse al Gran Premio l'esamen proprio con Tiller secondo alla Kurn Bruxelles Kurn hanno una top 10 anche lì questa volta mi sembra Tiller quinto nella classifica finale appunto della trobro Leon lasciando da parte Alpesin secondo me tra le tre professional dell'anno che dite io non sono tanto bravo con i ranking nel senso tra le prime tre probabilmente si ci sta anche in realtà non so non hanno tenuto tantissime vittorie però sono sempre molto attivi in in corsa forse me lo sono me lo sono perso tra i risultati che citavi anche a dare Baker erano arrivati era arrivato in uno era arrivato in una top 10 non so se l'hai citata ma mi sono dimenticato no 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 mi sono dimenticato io Holgard ottavo comunque in qualsiasi competizione specie competizioni di questo tipo cioè che strizzano più l'occhio a colori preclassiche in cui si sono presentati sono stati molto competitivi è vero che hanno accesso a di fatto tutto il meglio che c'è in Norvegia e che non sta nel nel World Tour e il movimento norvegese non è un movimento di secondo piano però è pur vero che c'è tutto questo ben di Dio a cui possono attingere poi dopo lo stanno facendo fruttare con ottimi risultati in questa stagione insomma hanno portato corridori nel World Tour non ultimo Andreas Lecknesund che comunque ha offerto ad esempio alla freccia del Brabante una bellissima una bellissima prova e loro stessi si stanno mettendo si stanno mettendo in mostra è un progetto cioè sappiamo per certo che 1x ha intenzione di investire molto nel ciclismo nei prossimi anni e sembrano proprio sulla strada giusta diciamo che prima tre magari no anche perché comunque nei ranking sono noni nel ranking per il Rock Tour quello delle sole professional sono trentesimi in quello generale perché magari c'è squadra penso a un Archea un corridore del rango di Quintana che loro non hanno la Total che a me non piace però il corridore che quest'anno si è decisamente imposto però sì sicuramente stanno facendo un'ottima stagione hanno un ottimo vivaio e cresceranno ancora molto credo nei prossimi anni bene siamo arrivati in conclusione di questo episodio il 206esimo di Cycling Chronicles se vi ricordo i canali per contattarci la nostra mail cyclingchronicles.podcast attagmail.com facebook instagram cyclingchronicles twitter c underscore c underscore podcast vi ricordo che potete sostenere la nostra iniziativa del podcast con Patreon effettuate una donazione a intervalli regolari ottenete delle ricompense in cambio stiamo già contattando il prossimo Patreon per venire a fare un episodio con noi siccome abbiamo fatto il pronostico per la puntata scorsa non me ne è venuto in mente un altro e non glielo ho chiesto soprattutto ad Albi quindi direi che ce la teniamo buona ce la teniamo buona con il vincitore a Montalcino per questa settimana primo con un saluto tipico del porcellino della Troveroleon grazie mille per la compagnia per la chiacchierata come sempre grazie a voi per la compagnia e per la chiacchierata grazie anche ai nostri ascoltatori giuro che dopo questa volta non lo farò più e due parole magari per salutarci su John Dagenkulp e la l'esultanza cioè la felicità per la vittoria dello sprint del sesto posto la Troveroleon due parole due dai posso dire tre scegli con cura la prima va bene vai John ma cazzo John ma cazzo Luca grazie mille anche a te per la compagnia per la chiacchierata come sempre grazie a voi un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e niente noi ci sentiamo settimana prossima quando ricominciamo il nostro tram tram io e Luca ci abbiamo in ballo anche un po' di appunti sulle vicende di UK anti-doping che abbiamo raccolto magari ci infiliamo una puntata settimana prossima sull'argomento perché ce l'abbiamo in stand by ma in realtà buona parte del lavoro lo abbiamo già fatto quindi possiamo anche provare a metterla in calendario a presto ciao 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 Grazie a tutti